Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, come vedete già dal titolo, oggi parliamo di Squid Game La Sfida. Perché parlare di questo progetto così particolare? Per due motivi. Prima di continuare, volevo intanto ringraziarvi perché negli ultimi giorni, e questo c'entra anche in uno dei due motivi, negli ultimi due giorni il canale è andato molto bene e sto approfittando anche, ragazzi diciamoci la verità, io qua su YouTube ho la partner, dunque approfitto anche di quelle entrate che ho per sistemare il setup. Come vedete già ho preso un microfono, questo bellissimo faretto che ho qui davanti che mi illumina forse è un pochino troppo eccessivo all'illuminazione, però sono riuscito a prenderlo, ok, così è un pochino meglio, perfetto. Però insomma spero che possiate apprezzare, sto cercando comunque di dedicare un po' di tempo anche a livello tecnico qua sul canale YouTube, perché come ho sempre detto vorrei che potesse diventare davvero un'estensione di ciò che faccio a livello editoriale, di articoli, di tutto quello che scrivo. In più poi come sempre nel box informazioni trovate tutti i miei social dove trovarmi e tutto quello che faccio. Dunque tanto vi do un mega abbraccio, vi ringrazio tantissimo. Non faccio ancora cose, cioè per ora sto qui soltanto a dirvi grazie alla partner che ho con YouTube, che comunque sia i video che faccio, alcuni sono sempre ben visti, commentati, c'è sempre un buon giro di like. Quello che mi sta entrando lo sto puntando direttamente qui. Il prossimo acquisto è una webcam, perché questa qui che ho non mi piace, però già c'è un microfono, già c'è un faretto, piano piano sto comprando tante altre cose e cercare di potenziare l'offerta. Dunque dicevamo, Squid Game, la sfida. Perché parlare di questo progetto? Per due motivi. Il primo perché Squid Game è stato un fenomeno pazzesco, incredibile. Qualcosa che secondo me neanche Netflix si sarebbe aspettata. Mi ricordo che cerco sempre di tornare indietro con la memoria a sapere, a cercare proprio di ricordarmi se all'epoca Netflix mi aveva proposto di coprire la serie. Perché di solito Netflix ti chiede se vuoi coprire delle cose, altre volte invece siamo noi giornalisti che dobbiamo un po' interessarci a dei prodotti e chiedere, chiedere quei prodotti, magari per vederli prima. Squid Game alla fine non era niente di che, sembrava l'ennesimo clone di Battle Royale. Battle Royale intendo romanzo, insomma film, se l'avete visto. Romanzo, prima è nato un romanzo. Se non sbaglio c'è stato prima il romanzo, poi il film e poi il fumetto. Non vorrei dire una stupidaggine, vabbè comunque sia. Il secondo motivo è perché mi capita spesso, il secondo motivo per cui porto questo prodotto qui su YouTube, perché mi capita spesso rivedere tante cose durante l'arco della settimana, prodotti che Netflix o altre piattaforme mi propongono, delle coperture, i film. Poi magari dico, vabbè ma questa roba che ce ne frega, no? E quindi lascio perderti, tanto poi prossima settimana arriverà qualcosa di più interessante, poi prossima settimana... E poi il canale rimane fermo per mesi. Dunque mi sono detto anche una cosa del genere, che magari non frega niente a nessuno, però vedo sempre che c'è qualche nuovo iscritto, magari può apprezzare. Dunque, eccoci qua a parlare di Squid Game La Sfida. Non mi sono addentrato molto nel vedere... Ah, che cos'è Squid Game La Sfida? Una cosa che già avevano annunciato poco dopo il successo mondiale della serie, ovvero che avrebbero realizzato davvero un reality show su base Squid Game, proprio della serie coreana, e per poi... Serie coreana, se non sbaglio, se non vorrei una stupidaggine, perché c'è qualcuno che mi bacchetta. E poi niente, più o meno con le stesse regole, possiamo dire. 456 giocatori, un 4 milioni e 560... No, 4 miliardi, 4 milioni e 460 mila dollari. Un bottino incredibile. Arrivano questi 456 giocatori da tutto il mondo, o comunque sia, diciamo, principalmente inglesi, perché inglesi o americani, perché il prodotto è inquadrato più in questa produzione, e questa è una delle cose di cui parlerò più avanti, però trasformato a modi reality. Dunque, passano dei giorni, passano delle sfide, alcune prese direttamente dal serial, le location sono proprio le stesse, cioè le hanno proprio, secondo me, o riutilizzate, o comunque se le hanno ricostruite, proprio scala uno a uno, e poi... a modi reality, no? Tutto qui. Quindi, a modi reality, vuol dire che nelle puntate che si vanno a vedere, scopriamo le parti del gioco, delle sfide, vedere chi vince, chi non vince, chi passa il turno e chi meno, e poi c'è tutta la parte, diciamo, all'interno del dormitorio, e vedere tutto quello che succede tra i giocatori. Allora, l'ho trovato un prodotto abbastanza deprimente, devo essere sincero, molti dicono sempre che io sono uno che parla sempre bene della roba di Netflix, ma a me non è il fatto che qualcuno mi invita, o mi danno degli screener, o mi invitano le proiezioni stampa, e questo motivo di base, dunque ne devo parlare bene, assolutamente no. questo è uno dei prodotti che cascano proprio di sotto, nella parte più di fogna, possiamo dire, non di Netflix, ma a prescindere dell'audiovisivo. Allora, la domanda, la prima che sorge spontanea, ma quindi i giocatori fanno la stessa fine, chi viene eliminato della serie TV? No, assolutamente no. Si inventano questa cosetta, per cui, per esempio, già il primo gioco è un 2-3 stella, per cui, se vieni beccato, che ti muovi anche un micromuscolo, dopo che la bambola ha girato la testa, i contendenti hanno una piccola carica qui sul petto, un sacchettino, un piccolo carico di mini esplosivo, di color grigio, no, che dovrebbe riconosci, non lo so, insomma, vabbè, e dal computer, da remoto, quando vedono che qualcuno si muove, quando devono star fermi, fanno esplodere questa cosa. Quello vuol dire che sei eliminato, ok? Quindi, ti si sporca la maglietta, simulando il fatto che qualcuno ti abbia sparato. Aiuto. Già questa cosa è un po', non lo so, sentite un po' quanto è di cattivo gusto una roba del genere? No, lo sento solo io, perché poi magari mi rendo conto che a qualcuno possa anche piacere un prodotto del genere, non lo so. E la cosa che ho poi trovato imbarazzante, ma davvero, anzi, vergognosa, più che imbarazzante, davvero vergognosa, è il fatto che quando poi questi contendenti, questi giocatori, scusatemi, sono stati beccati, dunque sono sconfitti, devono uscire, sembra, tutti fanno la stessa cosa, si buttano a terra, simulando la morte. ora, diciamo che, l'ho trovato una cosa proprio di cattivo gusto, sono sincero, e qui uno potrebbe dire, ah ok, allora te sei uno che ha una percezione dei prodotti, non riesce a divertirsi, vede queste cose, e le prende come malsane, non lo so, perché al netto di tutto questo, di come poi vengono esposti tutti i successivi giochi, lo show, tolta la parte dei giochi, e poi quando si concentra di più, nella parte, dei dormitori, delle cucine, dei bagni, la gente che, ci sono poi quei giochi di, in cui bisogna stare in gruppo, e dunque ci sono le persone che fanno il gruppo, poi quello dobbiamo eliminarlo, ragazzi, tolta la parte dei giochi, lo show, è di una noia, mortale, e parliamo di puntate di circa 50 minuti, in cui un gioco dura nel totale a 10-15 minuti, un quarto d'ora proprio per essere buoni, il resto della mezz'ora dello show, è una rottura di palle allucinante, io mi sono annoiato, come mai mi è capitato nella mia vita, di vedere show di questo calibro, ho visto tanti show di Netflix per lavoro, di serie che poi non sono mai continuate, una stagione buttata lì così, ho visto una serie, un paio di anni fa, una serie danese, su una storia di giovani reali, adolescenziale, una rottura di palle allucinante, però, diciamo che più o meno scorreva, non te ne fregava niente, era una cosa che nella mia testa già avevo bocciato, perché non mi stava piacendo, no, più di così non si può abbassare, perché ora ritorno a vedere tutto che sono bianco bianco, scusate, dunque, mi pare Royal Family, Royal School, una roba leggera, sempre su Netflix, che poi se non sbaglio hanno fatto una seconda stagione, poi è finita lì, insomma una rottura di scatola allucinante, anzi una vera rottura di palle, allucinante, una cosa assurda, e questo show è peggio, è peggio, perché si vede proprio che è finto, è proprio finto, lo vedi in ogni cosa, non c'è niente, per quanto un, cioè, se di base il reality, prendiamo il reality più famoso, l'eccellenza, Grande Fratello, se l'idea del Grande Fratello era quello di riprendere all'interno di una casa delle persone, dunque vedere proprio quello che succedeva, qui è proprio il contrario, non è neanche più un reality show, perché è tutto finto, è davvero finto, come parlano, come si pongono, e poi lo stesso prodotto è posto come, a momenti alterni in cui si vede quello che succede, e poi ci sono le parti, le interviste singole, tipo confessionale, e poi mi fa ridere vedere che presentano una giocatrice, una contendente, una partecipante, scusatemi, che parla, dice che lei ha bisogno di tanti soldi, perché è in crisi, la casa ha un lavoro che già guadagna poco, e per fare questa cosa ha lasciato il lavoro, e una per lei come una di 50 anni è difficile poi uscire da qui e trovare un altro lavoro, praticamente dopo tre minuti fanno vedere che è lei una delle prime che viene eliminata nello show, cioè ma porca miseria, ma perché fai tutta questa cosa, cioè o sei proprio cattivo, oppure è tutto, spero che sia davvero, tutto finto, tutto inventato, quindi là sono tutti attori, tutta gente buttata lì, chiamata a fare questo spettacolo, questo show, ma poi alla fine non prega niente a nessuno, cioè questo devo, questo voglio capire, a questo voglio credere più che voglio capire, e poi arriviamo al punto centrale del progetto, Squid Game come poteva essere, come è, anzi come è Battle Royale, anche il primo Hunger Games, prendiamola così per alcuni aspetti, visto che c'è anche Hunger Games adesso al cinema, insomma tutte queste cose qui, avevano alla base, come anche Squid Game, hanno una forte critica sociale alla base di questo prodotto, come allora Battle Royale, che si incentrava più sulla violenza giovanile, il rispetto dei giovani, che è la generazione allo sbando, e tutto il resto, ci metto anche Hunger Games, nel momento in cui cerca di prendere spunto da un'opera, da un contesto sociale, Hunger Games prendeva tantissimo da Battle Royale, e poi cercava di fare il suo prodotto, ed è il motivo per cui secondo me, poi tutti dal due in poi, gli altri due libri non sono all'altezza del primo, perché cominciano a creare la loro storia, e non è credibile in nessuno dei suoi aspetti, e Squid Game era la stessa cosa, Squid Game era una grande critica alla società capitalista, l'idea, c'era anche questa grossa critica di come la società, il governo non ha cura dei propri cittadini, cioè ci sono i ricchissimi, e ci sono i poverissimi, poverissimi e i ricchissimi guardano i poverissimi ammazzarsi, buttare al centro del ring un pezzo di pane, e vedere dieci persone che sono capaci di uccidersi per quel pezzo di pane, non c'è l'aiuto del ricco nel cercare di sfommare quelle persone, ma proprio di lasciarle morire, era una forte critica, una forte critica, c'era tutto l'aspetto sociale, tutto l'aspetto anche di distinzione tra le persone, era abbastanza particolare, era un po' sottile, spero che magari in una seconda stagione, vediamo un po' quello che esce fuori, riescano un po' anche ad approfondirlo, insomma, criticare l'intrattenimento becero, che hanno questi ricconi, che si divertono a vedere la gente morire, e che cosa vai a fare? Vai a fare Squid Game, la sfida che racchiude tutto quello che la serie andava a criticare, perché questo? E ritorno all'inizio, perché è diventato improvvisamente un prodotto di forte intrattenimento, fatto dagli americani, perché questa è una produzione palesemente di statunitense, inglese o quel che sia, e dunque si vede che in quel momento non ce ne frega niente, dobbiamo spremere il più possibile, e oltre che, diciamo che non mi meraviglia se non sbaglio, si è parlato di remake di paese in paese, dato che stanno facendo la casa di carta, adesso in altri paesi fanno i remake, sempre su Netflix, te lo aspetti, poi se non sbaglio se ne è parlato e forse è già stato confermato, io non ho più seguito nulla di qualche remake di Squid Game, magari Stati Uniti, magari America, scusatemi, insomma, non mi meraviglierebbe, se non sbaglio sì, però, diavolo, aiuto, cioè, non so se mi sto spiegando, se riesco a far arrivare questo messaggio, e qualcuno potrebbe venirmi a dire, eh ma comunque sia, come ho detto all'inizio, sei te, perché magari io voglio divertirmi, loro si divertono, ma proprio questa cosa, poi creare, c'è questo montaggio di questa serie, che cerca di creare enfasi, la tensione, il terrore, come se queste persone stessero davvero, rischiando la vita, quando non è così, e rende tutto ancora più, stupido, non mi viene un'altra parola, rende tutto ancora più stupido, difficile da credere a quello che sto vedendo, è veramente una situazione stranissima, è una situazione paradossale, è uno show che, sono sincero, mi ha dato più fastidio, che divertimento, ora per fortuna, per fortuna, la sensibilità delle persone, è cambiata nel corso degli anni, per fortuna, poi magari, questo show è piaciuto a tutti, e mi ha dato fastidio soltanto a me, però, nel momento in cui, vedete questa, che un po' mi dà fastidio di Netflix, che molte volte, si trova tra le mani, delle cose molto interessanti, e poi le va a rovinare, con queste stupidaggini, perché questa è davvero una stupidaggine, quindi, fatemi sapere voi, cosa ne pensate, di questa serie, di questo reality, di questo prodotto di intrattenimento, che penso sia tra i più bassi, che abbia mai visto, nella mia vita, non perché sono contro i reality show, assolutamente, alcuni li trovo anche divertenti, sono, un figlio del grande fratello, io, cioè, quando c'era la prima edizione del grande fratello, se non sbaglio, avevo dieci anni, ed era proprio una grossa novità, in televisione, se non sbaglio, attorno al 2000, 1999, è uscito il grande fratello, mi ricordo le prime tre, quattro, cinque, sei edizioni, me le ricordo perfettamente, magari le avevo anche seguite, lo ammetto, poi dopo, comunque sia, si cresce, non hai più interesse, in determinate cose, vai a trovare interesse, per altre cose, si cresce, si matura, però questo, l'ho trovato veramente, il peggio del peggio, veramente brutto, ma brutto, ma brutto con 4B, quindi niente ragazzi, io qui vi saluto, spero di portarvi, dei contenuti un pochino, più interessanti, nei prossimi giorni, sono sincero, questo era più, non dico un riempitivo, perché come alla fine, un quarto d'ora, ci sto sempre a chiacchierare di qualcosa, come vedete infatti, anche di più, però, che è successo, all'inizio ho detto, che non mi sono messo tanto, a vedere gli altri, quello che ne hanno pensato, però sono andato a vedere, altri colleghi, che ne hanno parlato, e alcuni ne hanno parlato, anche bene, dicendo che è un grande, intrattenimento, ora, togliendo tutto l'aspetto sociale, di critica, di prodotto, veramente, povero, scadente, ma io mi dico, ma ragazzi, ma davvero voi vi siete divertiti, a vedere sta roba, cioè non vi siete annoiati, questo è uno show, di quelli di una noia, allucinante, 50 minuti della prima puntata, mi sembrava che fossero passate due ore, ma non sto scherzando, non sto assolutamente scherzando, quindi nulla ragazzi, qui sotto, come ripeto sempre, i commenti sono per voi, fatemi sapere, cosa ne pensate, di questo prodotto, se l'avete visto o meno, io sicuramente, attendo la seconda stagione, di Squid Game, che non è un prodotto malvagio, è un buon prodotto, che poi, quando poi diventa una roba, estremamente popolare, piace a tutti, sai che la fregatura è dietro l'angolo, è chiaro che comunque sia, per me andava bene così, non doveva esserci una seconda stagione, però lì, la devi fare, il successo, bla bla bla, speriamo sia una seconda stagione intelligente, è lo stesso creatore, che la sta scrivendo, quindi insomma, speriamo che non gli servano dieci anni, o poco più, quanto ci ha messo, per scrivere la prima, però ci sarà un motivo, se magari la prima è uscita così interessante, e ci ha messo dieci anni, io vi saluto, noi ci vediamo come sempre, ad un prossimo video, ciao a tutti,